Giovanne, tu ce la fai a mantenere un segreto. L'ha ucciso alla processione della Madonna. Non ha paura neanche dei santi d'antano. Lo zio di Carmelo. Pempeno. Hanno sparato allo zio di Carmelo e l'altro giro i maresciati. Il prossimo sarà papà. I veri coraggiosi sono quelli che non si scantano dalle proprie paure. Grazie.